Che tipo di uccello sei? Io sono un passero, lei è una colomba. No, ho chiesto. Che tipo di uccello sei tu? Cara Susi, ecco il mio piano. Caro Sam, la mia risposta è sì. Cara Susi, quando? Caro Sam, dove? Cara Susi, cammina per 400 metri in direzione nord, dalla tua casa fino al sentiero sterrato che non ha nome. Gira a destra e seguilo fino alla fine. Ti aspetterò nel prato. Chi manca? Sankaski, sei lì dentro? Accidenti, se l'ha svignata. What, dove cavolo sei? Sono qui. Ti preoccupa il fatto che tua figlia sia scappata di casa? È una domanda tra bocchetto. Finché non arrivano i rinforzi, i miei assistenti saranno il piccoletto, il magro e quello con la benda sull'occhio e verranno commesso la station wagon. Cos'è questa roba? Dipingi acquarelli per lo più paesaggi, ma anche qualche nudo. Se lo trovano, non sarò quello che non ha portato un'arma. Neanch'io. Dov'è il bambino? Mi hanno detto che l'ha colpito un fulmine. Sì, è vero. Se serve, sono fuori. Vado a cercare un albero da abbattere. Sì, è vero. Sì. Sì. Grazie a tutti